Una mini proroga da dieci giorni da parte del governo. Fino al 10 febbraio le discoteche rimarranno chiuse, saranno vietati i concerti e le feste all'aperto e sarà ancora obbligatorio utilizzare le mascherine all'aperto in zona bianca. Nel primo consiglio dei ministri, dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, il governo rinnova le misure anti-Covid 19 in scadenza, ma sceglie una linea soft, dando un primo segnale del cambio di passo che ci sarà nelle prossime settimane, con un graduale allentamento delle restrizioni ed un ritorno alla normalità, a partire da mercoledì, quando si metterà a mano agli interventi per semplificare le norme sulla scuola. Ma in Campania non sarà così, almeno per quanto riguarda le mascherine, come ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi per quello che ci riguarda in Campania continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono che alla perda dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché, come vado ripetendo, la densità abitativa che c'è in Campania non c'è in nessun'altra parte d'Italia, quindi dobbiamo essere un po' più prudenti. Se sarà così possiamo guardare credo con fiducia alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti. Se Dio vuole si sta raffreddando l'onda del contagio, se rimaniamo prudenti credo che torneremo alla vita normale.